Grazie a tutti. Il Ponte di Pasqua e Pasquetta rappresenta il primo test in vista dell'estate, riaprono molte strutture recettive, Alghero si prepara ad accogliere turisti soprattutto da altre parti della Sardegna, al parco il secondo weekend di emozioni di primavera. Il Centro di Salute Mentale Serde di Alghero sotto organico Marco Tedde presenta un'interrogazione, il personale di Alghero trasferito a Sassari quasi smantellata, una delle eccellenze della sanità algherese nella cura dei disagi mentali. Ben ritrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo come avete visto dei titoli con la cronaca per parlarvi del bruttissimo incidente avvenuto ieri dopo mezzogiorno sulla cosiddetta variante del Calic, l'altezza dello svincolo per l'aeroporto. Un 52enne algherese, Antonio Palomba, molto conosciuto in città, era a bordo della sua moto, una Yamaha e stava percorrendo la strada che da Fertilia porta a Santa Maria La Palma quando ha sbattuto violentemente contro un Fiat Ducato che in quel momento stava uscendo dallo stop terribile l'impatto, con Palomba che ha fatto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. La situazione è subito parsa grave, il 52enne è stato dapprima trasportato all'ospedale civile di Alghero, quindi trasferito al Santissima Annunziata di Sassari dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Come avete potuto vedere chiaramente dalle immagini, la moto è andata praticamente distrutta, sul posto alcune pattuglie della polizia locale coordinate dal comandante Guido Calzia che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica oltre ai vigili del fuoco e al 118. I carabinieri invece stanno indagando per un furto piuttosto anomalo avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì e nel bar Focaceria il Milese. I nioti dopo aver reso inutilizzabili le telecamere dell'impianto di video sorveglianza, pare gettando un secchio di vernice, hanno reciso le catene utilizzate per legare sedie e tavolini portando via sette di questi. Più che di furto si ipotizza un tentativo di danneggiamento o sabotaggio nei confronti dell'attività commerciale in prossimità del ponte di Pasqua e Pasquetta. E ora parliamo proprio di questo, ovvero del ponte di Pasqua, perché le previsioni sugli arrivi, perlomeno all'aeroporto di Alghero, sono rassicuranti. Un po' di ossigeno per le strutture ricettive, non solo, presenti in città. Nel prossimo servizio vediamo però cosa propone Alghero nel weekend. Riaprono alcune strutture alberghiere, altre lo faranno tra una decina di giorni, quando aprile proporrà un nuovo ponte, ma è indubbio che quello di Pasqua e Pasquetta rappresenti un primo test in vista della stagione estiva. Il meteo per ora sembra essere rassicurante, non escluso che qualcuno decida di passare soprattutto il lunedì in spiaggia, dove qualche stabilimento ha iniziato, tra l'altro, ad attrezzarsi, alla luce dell'ordinanza balneare firmata dal direttore generale degli enti locali, Antonella Giglio, che ha anticipato a oggi la stagione balneare estiva, che si concluderà il 31 ottobre. I ponti di aprile e maggio, eliminanti eventi sportivi che Alghero ospiterà, però, rappresentano anche una boccata d'ossigeno per le strutture ricettive, soprattutto estralberghiere, che nel corso dell'inverno hanno sofferto più di tutte la penuria di voli. Concentrandoci sul ponte Pasquale, la città si è appresa ad accogliere turisti che arriveranno soprattutto da altre parti della Sardegna, anche perché, come da tradizione, Alghero è una delle mete preferite del turismo interno in questo periodo dell'anno, nonostante la concorrenza di altre realtà vicine, come Castelsardo, che proporrà il concerto di Pasquetta. Non farà altrettanto la nostra città, che però terrà le porte delle proprie torri aperte, con le mostre dedicate al giro e al Qualtè con quelle dedicate alla Settimana Santa. Al parco, invece, in programma il secondo weekend di emozioni di primavera, con il Museo della Memoria Carceraria che resterà aperto, e la mostra di Elio Pugli sul Piccolo Principe, passando per l'escursione al Monte Timidone in programma il giorno di Pasquetta. E a proposito di emozioni di primavera, il Parco di Portoconte, in collaborazione con la Catonio Bus, ha messo a punto una linea bus speciale per tutti gli undici weekend, sarà possibile arrivare a Tramariglia lasciando l'auto a casa e prendendo l'autobus dedicato grazie ad un accordo specifico, infatti sarà anticipata la tradizionale linea Alghero Beach, tra le corse in partenza da Alghero via Catalonia e tre quelle di rientro da Tramariglio. La partenza da Alghero via Catalonia per Tramariglio è alle 8.40, alle 12.40 e alle 15.40. Il rientro da Tramariglio per Alghero invece è alle 9.30, alle 14.30 e alle 19.30, per un costo giornaliero di 5 euro. E' grande partecipazione ieri di fedeli per i riti del venerdì santo, come sempre grande suggestione per il dascravamento seguito dalla lunga processione che fino a tarda notte ha percorso le vie della città. Domani l'incontro tra la Madonna e Gesù Risorto e la Messa di Pasqua celebrata dal Vescovo Morfino in cattedrale. Le note della banda musicale d'Alerci hanno scandito ieri, venerdì santo, così per tutta la settimana di passione, l'incendere lento in preghiera della grande processione del venerdì. Come ogni anno erano tantissime le persone che hanno voluto attendere il passaggio del lungo corteo che porta Gesù disteso nel suo brassol lungo tutto il percorso. Ma in tantissimi sono stati i fedeli che già dalle prime ore del pomeriggio hanno voluto assicurarsi un posto fra i banchi della cattedrale come sempre gremita per il rito del dascravamento che ha anticipato appunto l'uscita della processione. Il Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino ha presieduto la celebrazione della passione di Gesù mentre i confratelli della misericordia, anime e braccio organizzativo della settimana santa algherese insieme al Comune, Diocesi e Fondazione Alghero hanno compiuto il rito del discendimento del prezioso San Cristus della Crocelinia adagiandolo nel suo brassol. Il rito è stato interamente trasmesso in diretta sia a web che in tv su CatalanTV con il racconto bilingue italiano e algherese di Nicola Niedu e Michele Serra a partire dalle 20. La processione ha quindi percorso le vie della città colorando di rosso colore dei farolse portati in corteo il suo passaggio. Un corteo eterogeneo formato da donne, uomini e bambini di tutte e le età. Numerosi i cori che hanno atteso in punti precisi del percorso il passaggio della processione intonando canti a tema. Quella del venerdì è la più grande processione di tutta la settimana santa e ha fatto rientro nella Chiesa della Misericordia a tarda notte. Oggi invece giorno di sabato santo che precede la Pasqua alle 21 in cattedrale si terrà la solenne veglia pasquale, la liturgia della luce, la liturgia della parola, quella battesimale ed eucaristica presiedute sempre dal Vescovo. Domani, domenica di Pasqua, alle ore 9 da San Francesco uscirà la processione della Madonna, mentre alle 9.30 dalla Chiesa della Misericordia quella di Gesù Risorto. I due cortei confluiranno sui bastioni Cristoforo Colombo all'angolo con via Carlo Alberto dove alle 9.45 ci sarà l'incontro di Gesù Risorto con la Madonna per il suggestivo rito. Insieme poi raggiungeranno la cattedrale dove alle 10.30 il Vescovo celebrerà la Santa Messa. Al rientro nella Chiesa della Misericordia verrà distribuito il pane benedetto, mentre alle 12 è fissata un'altra messa nella cattedrale di Santa Maria. Ci fermiamo ora per una prima pausa pubblicitaria, tra poco. Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, nel corso dell'assemblea dei soci SECAL, la società che ad Alghero gestisce la riscossione dei tributi locali, ha nominato il nuovo amministratore unico. Si tratta del dottore e commercialista Roberto Cau, succede a Salvatore Marino per decorrenza dei termini contrattuali. Al nuovo amministratore è stato affidato il compito di razionalizzare e rilanciare la società totale e partecipazione pubblica, con l'unico obiettivo di garantire piena equità fiscale fra i contribuenti, migliorando la gestione complessiva degli accertamenti della riscossione. Mi ha sottolineato Mario Bruno, che ha ringraziato il dottor Marino per il lavoro fin qui realizzato. La revisione organizzativa condivisa con l'amministrazione, si legge in una nota diffusa ieri dal Comune, prevede la dotazione di tutte le risorse utili alla gestione e funzionamento della società, la prossima individuazione del direttore generale, la salvaguardia completa dei livelli occupazionali. Auguri di buon lavoro a Roberto Cao, sono arrivati dal consigliere comunale di Forza Italia Michele Paes, intanto e con grande piacere che, aprendo della nomina del dottor Roberto Cao, l'amministratore unico della SECAL, non solo per le comunanze ideologiche, ma per le sue indiscusse capacità professionali. Siamo certi, come gruppo di Forza Italia, che da tecnico, seppure da oggi prestato alla politica, nel senso più nobile del termine, sarà finalmente in grado di riesumare la SECAL, togliendola dalla fase di agonia, nella quale il sindaco e la maggioranza l'hanno fatta sprofondare. Siamo sicuri che ne chiederà il potenziamento per farla diventare una struttura efficiente ed efficace, chiedendo in primis all'amministrazione l'annullamento del bando di esternalizzazione della riscossione e una profonda rivisitazione del piano di razionalizzazione delle partecipate attualmente in essere, seppure per fortuna disatteso dal Comune, evitando la liquidazione della società di riscossione. Buon lavoro, dottor Cao, confidiamo nelle sue capacità e nella sua indipendenza, conclude poi l'esponente azzurro. Il centro di salute mentale e il CERD di Alghero continuano a perdere pezzi, una cronica e progressiva riduzione di personale che sta rendendo l'erogazione dei servizi essenziali particolarmente problematica. Tornare sull'argomento con un'interrogazione presentata nei giorni scorsi a Cagliari, del vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Tedde, sentiamolo. La situazione del centro di salute mentale del CERD di Alghero è veramente drammatica. Nel centro di salute mentale abbiamo soltanto quattro psichiatri, due psichiatri sono stati trasferiti a Sassani, non abbiamo psicologi, non abbiamo assistenti sociali, non abbiamo educatori, non abbiamo terapisti. Abbiamo un distretto sanitario di 80 mila residenti, dovremmo avere uno psichiatra ogni 10 mila residenti, invece abbiamo soltanto quattro psichiatri. Tra altre cose chiude anche il sabato e chiude per alcuni pomeriggi alla settimana, è evidente che è una situazione insostenibile. Il CERD, il centro per le dipendenze, non ha invece psichiatri, ha uno psicologo e ha due medici, uno dei quali però ha una formazione da pronto soccorso. Noi abbiamo già proposto tre interrogazioni a Pigliaru per protestare contro questa situazione insostenibile, abbiamo chiesto che Pigliaru intervenga, ancora non l'ha fatto, ne proporremo una quarta, però è evidente che il territorio non può continuare a guardare in silenzio una situazione di degrado e di dequalificazione della sanità algherese che non ha precedenti. La normativa ministeriale impone, a seguito delle analisi ARPAS riferite agli anni scorsi, con tre fuori norma consecutivi, l'interdizione banneare per l'intera stagione 2017 della stazione Carducci, approssimativamente meno di 500 metri ricompresi fra la scoglieria del Cavalmarì e il Trò, senza interessare la spiaggetta di Lastronas. Firmata ieri a tal proposito, l'ordinanza sindacale numero 13 ha fini esclusivamente cautelativi sul tratto di fognatura interessato, dallo scorso anno sono in corso numerosi interventi videoespezioni che hanno evidenziato una serie di emissioni abusive, programmato il completo rifacimento della condotta fognaria, erroneamente posizionata negli anni passati all'interno del canale di Acque Bianche, con conseguenti problemi in caso di anomalie e sovrappressioni. E' ancora eliminato lo scarico abusivo di un locale pubblico, correttamente conferito in fognatura, mentre in fase di realizzazione un pozzetto di presidio all'uscita del canale di via Carducci per intercettare eventuali acque abusive che altrimenti si trasferirebbero in mare, permangono limpide e balneabili. Comunque le acque del mare algerese, ad esclusione di questo piccolissimo tratto di scogliere interessato da un divieto imposto da rigide normative sulle quali non è stato possibile ottenere deloghe, come chiesto invece dal sindaco in occasione di una recente conferenza di servizi svoltasi a Cagliari. Ci fermiamo ora per un altro break. Chiudiamo con lo sport anche questa edizione del nostro telegiornale della vigilia di Pasqua, buona prestazione per il Green Alghero alle recenti finali del campionato regionale invernale per la categoria esordienti B, stiamo parlando quindi ovviamente di nuoto. La compagina algerese è tornata a casa con tre medaglie dalla vasca olimpionica di Terramaini. Campione regionale Lorenzo Sanna nei 50 Farfalla che ha ottenuto anche un secondo posto nei 100 stili libero. Podio per Gaglia Mulas, terza nei 50 Farfalla. Da segnalare tra l'altro l'ottima sua prestazione nella gara di Centorana che l'atleta algerese ha dominato fino ai 75 metri solo per un problema. Dopo l'ultima virata non è riuscita a mantenere la prima posizione. Ottimi risultati anche per gli altri atleti qualificati per le finali che comunque hanno migliorato il proprio tempo personale. Greta Salis, Marta Noria, Rachele Ciancilla, Lorenzo Saba, Tiziano Piras, Damiano Brundu, Gabriele Dore e Davide De Martis. Soddisfatti il direttore tecnico Lorenzo Zirconi e l'allenatore Fabrizio Canu. Prossimo appuntamento per il Green il 22 aprile a Sassari per la quarta e ultima tappa del trofeo regionale Topolino dove verranno premiati i migliori atleti del circuito regionale. Dal nuoto passiamo al baseball perché parte bene il campionato dell'Under 18 della Catalana Alguero che nella prima partita disputata domenica scorsa ha nettamente superato i parietà della Yellow Team con il punteggio di 12 a 4. La squadra allenata dal tecnico cubano Orlando Chirantes e dal coach Antonio Conti ne hanno dimostrato una buona concentrazione nella fase difensiva e altrettanta determinazione in attacco con alcune battute valide che hanno generato punti e sigillato la partita a favore degli algheresi. Grande soddisfazione per tutta la squadra e per la società della Caterana e degli Tigri che proprio nell'Under 18 hanno scommesso con il progetto Alguero. La maggior parte dei giovanissimi atleti ha infatti già trovato spazio nella Serie C impegnata nel modesto campionato regionale. Un grande contributo è stato dato dalle nuove leve delle due partite che hanno portato la Caterana a vincere il girone O di Coppa Italia sempre contro la Yellow Team Sassari 8 a 7 all'andata e 2 a 21 al ritorno. I prossimi appuntamenti che vedranno impegnate le due squadre di baseball della Caterana. Saranno la seconda giornata del campionato Under 18 il 25 aprile nel campo di Via Emilia d'Alguero alle 17.30 e la prima del campionato di Serie C il 30 aprile alle 15.30 sempre in casa. E domenica scorsa si è svolta a Sarroc la prima gara di mountain bike specialità marathon. Si è trattato della manifestazione organizzata dalla società Pulsar giunta alla quinta edizione denominata Marathon delle tre caserme. Alle 9.30 allo start con quasi 60 atleti al Via. Per l'Alguero Bike erano presenti Luciano Cattogno e il capitano Roberto Del Rio rientro nelle competizioni dopo un annetto di assenza. Pur non essendo la sua specialità, Luciano Cattogno ha chiuso in circa 4 ore la prova piazzandosi terzo nella Master 5 conquistando un meritevole podio. Seguire Roberto Del Rio che è riuscito anche a centrare il podio piazzandosi nella Master 6 concludendo la gara in 4 ore e 40. Per quanto riguarda l'altra distanza, quella di 50 km con 270 bikers al Via. Visto Diego Donapai terzo nella Master 3, ottava piazza per Massimo Cossu nella Master 4, undicesima posizione nella Master 5 per Gian Piero Nieddu e infine diciottesima piazza per Christian Calabria nella Master 3. Gara sfortunata invece per Claudio Amendola che si è trovato alle prese con una foratura. prossimo appuntamento domenica 23 aprile a Sardara per la quarta prova del Grand Prix Massimo Melis. E per oggi è davvero tutto, noi ovviamente vi auguriamo buona Pasqua e ci rivediamo martedì. Grazie, arrivederci.